L'iniziativa che noi teniamo riguarda Silvio Spaventa e il contributo che ha dato all'Unità Nazionale. Quando una figura politica compie errore, per noi quell'errore vale. Il deputato Dem, Luciano D'Alfonso, smorza la polemica. Il ministro Piantedosi non verrà chieti il prossimo 10 marzo, anche perché la manifestazione dedicata alla figura di Silvio Spaventa si farà a maggio. La polemica si era innescata con un comunicato firmato da associazioni, partiti e movimenti di sinistra e centrosinistra in cui si chiedeva appunto di non invitare il ministro in Abruzzo, in seguito alle famose parole pronunciate dopo il tragico naufragio di Crotone. Ancora D'Alfonso. Abbiamo risolto il problema anche dando valore a certo suggerimento, poiché non ci sarà l'iniziativa il 10 di marzo, abbiamo riconfezionato una iniziativa col protagonismo degli studenti. Poi ai primi di maggio vedremo quale sarà la figura di governo che verrà per nobilitare questo importante appuntamento. Gli errori non travolgono gli erranti, ma di sicuro c'è stato un grande errore del quale anche l'ordinamento politico e giuridico deve tenere da conto. Quindi non si rischia il caso? No, anche se le manifestazioni fanno bene alla democrazia, anche quando è protesta. Io ringrazio i movimenti che hanno messo la loro attenzione e mi hanno chiesto anche una correzione organizzativa.